Un festival multidisciplinare a vocazione internazionale che per tre giornate chiama la Cavallerizza Reale di Torino, psicologi, psicanalisti, scrittori e filosofi italiani e stranieri a confrontarsi sul tema Io non ho paura. È il Festival della Psicologia, quarta edizione a Torino dal 6-8 aprile 2018. In programma conferenze, dialoghi e spettacoli tutti gratuiti che hanno l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo per età, formazione e interessi, offrendo strumenti di approfondimento su temi di attualità, per consentire a tutti di ampliare il proprio sguardo sul mondo di oggi. Quest'anno il Festival della Psicologia di Torino ha deciso di concentrarsi sul tema della violenza e in particolare sulla sua declinazione terroristica. Questo è un grande tema ovviamente di attualità, ma che colpisce al tempo stesso da una parte la vita individuale, innanzitutto quella del terrorista. Una delle domande che ci porremo è che cosa c'è nella mente del terrorista, che cosa spinge giovani a sacrificare la loro vita e ad uccidere la vita di sconosciuti, di innocenti nel nome di una causa. E dall'altra parte però coinvolge anche la vita della polis, la vita della città. Come possiamo per esempio garantire ospitalità, accoglienza, integrazione, laddove la manifestazione di questa violenza può per esempio causare un irrigidimento dei confini, un compattamento dell'identità che esclude o potrebbe rischiare di escludere la possibilità dell'accoglienza. Ecco, da questo punto di vista allora abbiamo pensato che era necessario invitare anche intellettuali, pensatori, scrittori, filosofi, non limitarci diciamo a ragionare solo nel mondo psi, che è il nostro, ma creare un luogo di dialogo, di dibattito molto ampio, per cui ci saranno discussioni sul tema del rapporto tra la violenza e le religioni, con due grandi esponenti del mondo islamico e del mondo cattolico. Ci saranno scrittori che parleranno se la violenza terroristica è qualcosa che per esempio si eredita dalla cultura di gruppo, dalla cultura familiare. Ci saranno psicologi che ci parleranno di come per esempio spiegare il terrore ai bambini, di come, oppure di come poter pensare ad una prevenzione della violenza e poi ci saranno interventi appunto sul tema del confine, sul tema dell'accoglienza, sulle radici dell'odio e tutto questo il 6, 7, 8 aprile qui a Torino. Abbiamo, diciamo, titolato il festival con un'affermazione, no? Io non ho paura, è un'affermazione, un incoraggiamento e la testimonianza del fatto che anche di fronte al terrore, alla violenza del terrore, la cosa peggiore sarebbe reagire solo difendendosi, no? Ora è chiaro che i confini sono necessari, la difesa è necessaria, ma se la difesa e il confine si irrigidiscono a causa della paura, beh, la vita è meno viva, quindi la vita si impoverisce, si rinsecchisce.